Il soccorso ambulanza Roncadelle Castelmella ha organizzato Roncadelle Rescue, un pomeriggio di divertimento, informazione e giochi con l'obiettivo di informare e di informare i cittadini in modo da aumentare l'efficacia del soccorso. Presente è anche una zona dedicata ai più piccoli. Nella giornata di oggi abbiamo deciso con il patrocinio del comune di Roncadelle di organizzare questa giornata per la popolazione. La parte fondamentale è stata formativa e informativa nel senso che siamo andati a spiegare su delle postazioni diverse che poi magari vi racconterò siamo andati a spiegare effettivamente cosa può fare un cittadino formato. Nel senso la parte importante per noi soccorritori è comunque avere qualcuno come primo acchito, come prima chiamata, come primo intervento della popolazione attiva. Nel senso la differenza che fa un cittadino formato per noi è fondamentale. Quindi se qualcuno, se la gente normale è capace di fare qualcosa, sicuramente per noi è un lavoro più semplice e soprattutto un risultato migliore. Oggi abbiamo fatto 5 postazioni all'interno della palestra comunale relative a una postazione di massaggio cardiaco, tecnicamente un BLS, un Basic Life Support, che significa imparare a massaggiare su una persona adulta. Abbiamo fatto un'altra postazione di incidenti domestici e sportivi, cioè nel senso qualsiasi trauma dovuto a una caduta piuttosto che a uno scontro di calcio, sapere il cosa fare e il cosa non fare, perché tante volte anche il non fare è importante. Abbiamo fatto una postazione di rianimazione pediatrica con disostruzione, sempre pediatrica. Abbiamo fatto una postazione dove c'è l'incidente stradare, quindi anche lì abbiamo deciso di puntare su quello che la gente non deve fare, perché tante volte l'intervento del cittadino comune crea più danni che star lì a guardare l'evento. L'ultima postazione è stata più che altro ludica, perché i bambini hanno cominciato a fare qualcosina, come dei piccoli soccorritori, abbiamo puntato anche lì su farle fare qualcosa ai bambini che medicano delle bambole, fanno degli interventi e tra di loro fanno qualcosa fisicamente tra di loro. È importante che il cittadino comune sappia fare, perché tutta la catena del soccorso si chiama, è formata da anelli. Il primo anello è proprio il cittadino comune. Questo percorso parte da una buona chiamata. La gente non sa, non sa, molta gente non sa che c'è un numero unico che è l'112, il 112, che è il NUE, numero unico emergenza, che viene contattato in caso di emergenza. Già saper fare una buona chiamata, che l'operatore di centrale capisce di cosa c'è bisogno sul territorio. È già uno step molto importante per avere un soccorso efficace. Da questa prima chiamata, da questo primo anello, poi c'è l'intervento nostro, che è il secondo anello, è lì, ha cascata gli altri. È molto importante appunto per non avere mezzi sbagliati nel luogo sbagliato per eventi sbagliati, quando una volta il vecchio 118 veniva chiamato per sapere la guardia medica dove era. Allora, questo è stato per noi fondamentale come messaggio da passare. Per trovarci, noi, non solo noi, in questo caso abbiamo il nostro sito, le pagine social su cui ci possono trovare, lì tutte le informazioni vengono postate. Allora c'è appunto, è sempre Sark, Roncadelle Castelmella, sia Instagram che Facebook, è stessa cosa per il sito. Abbiamo la sede a Roncadelle, qua praticamente di fronte alla palestra, siamo a 200 metri in linea d'aria, in via Carlo Alberto dalla chiesa, di fianco alla caserma dei Carabinieri. L'evento è stato patrocinato dal comune di Roncadelle e si è tenuto presso il centro sportivo comunale di Roncadelle. Assolutamente sì, è un'iniziativa molto importante. Quando siamo stati coinvolti nella realizzazione di questa manifestazione, siamo stati logicamente molto fieri e orgogliosi di poter dare un contributo di sostenere il Sark in questa iniziativa. Il Sark è un'associazione che da 33 anni è presente sul nostro territorio, proprio ieri abbiamo festeggiato questo grande traguardo, questo bellissimo traguardo e vedere che anche dopo tanti anni questa realtà sul territorio dà ancora tanto e siamo sicuri e certi che lo darà e queste iniziative lo dimostrano, ci rende veramente orgogliosi. Siamo molto contenti di aver visto anche la possibilità di dare ai giovani, ai ragazzi di venire qui ed essere coinvolti in manovre in realtà molto importanti che magari in un futuro possono fare la differenza. Diciamo che riuscire a dare queste informazioni ai nostri giovani è sicuramente un punto di partenza molto importante. Inoltre ringrazio Maurizio, il vicepresidente del Sark per aver appunto avuto l'intuizione e l'idea di lanciare questo evento sul nostro territorio e ringraziamo anche tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, sono diverse le associazioni del territorio che hanno voluto essere qui con noi partecipi, dare una mano anche per far vedere alla gente che comunque l'unione fa la forza in questi casi e a Roncadelle fortunatamente le associazioni, il volontariato non è mai mancato, ci sarà e darà sempre una mano a tutti noi, a tutte le iniziative che verranno proposte sul territorio. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.